Costano molto dall'euro, anzi i tre stelle che sono il nostro core business sono proprio fissati su un euro d'imposta e siamo molto lieti perché sono misure concordate perfettamente con la nostra associazione albergatori e comunque con altri operatori turistici non associati sia del settore alberghiero che delle case vacanze e quindi siamo certi che questo sia un ulteriore passo di questo proficuo cammino che abbiamo instaurato. Tra le altre cose ci preme sottolineare che sempre mantenendo di concerto con i nostri operatori abbiamo anche condiviso le tariffe sul nostro iniziativo con il Comune di Albatriati e quindi ci sarà anche in questo senso una coerenza che permetterà di evitare concorrenze sleali.